buongiorno buona domenica ragazzi dunque dal vostro carantone dalla svizzera dunque faccio questo nuovo video dopo un periodo che non ho fatti volevo fare questo video riguardante la partita di ieri sera e di certi fatti che sono successi durante la partita che veramente mi hanno un po fatto infuriare diciamo come tifoso perché già il pre partita già su sky mi hanno fatto infuriare prima delle partite che certi certi opinionisti fanno veramente schifo diciamo non puoi di non puoi dire quando una partita sta solo 0 a 0 alla partita indirizzo tanto la partita indirizzata diciamo e il gol tanto il gol lo fare lo fanno lo stesso prima o poi il don lo fanno e che ne sai non puoi sapere se lo fanno sarei un fuorigioco lo devi annullare basta ma poi in serata dopo è successo di peggio sì che la juve è iniziato bene la partita contro il cagliari ha segnato subito con un minuto neanche 40 secondi non subito su bloccare i primi 10 mi ha fatti alla grande poi come al solito un episodio diciamo entrato il var che ha guardato se c'era mani di di ben attia dunque la juve si è spenta non esistito più la juve dunque fa ha giocato si è giocarellato ma non non ha fatto più lì più come i primi dieci minuti la veramente la pressione proprio si è sminchiata proprio la partita la partita della juve dopo dieci minuti è finita dopo abbiamo incassato il pareggio che era nell'aria più che perché ormai quando tu la squadra lasci venire sempre avanti prima o poi il gol il gol il gol lo prendi l'abbiamo preso poi fortuna vuole che fortuna vuole che andiamo dopo due minuti crossiamo al centro quell'altro se la butta dentro da solo un autorete ma poi non è che poi abbiamo insistito quei 23 minuti e poi arriva quel fattaccio l'ha in area di rigore del cagliari che a me è inutile che mi fate dei video quando non capito un cazzo di pallone scusate c'è certi personaggi che dicono la presa qua la palla la palla la presa qua la presa guardate bene le immagini qual ha presa la palla non qua queste schiena questa e mani questa e mani potete dire e poi l'ha fatto così il pallone così così l'ha presa il pallone e cazzo state a parlare potete dire quello che volete ma questo è mani dalle parti mia non è spalla l'accio visto proprio la malafete dell'arbitro scusate a dire questa è malafete non volevano dare il rigore alla juve poi l'hanno richiamato era meglio che non ci andava se non voleva darlo non ci andava il buono a fare la figura a me non dice ho deciso così e basta venute che vai la fai la figura di merda perché figura di merda è stata quella figura di merda questo non l'ha presa qua se la prendeva qua ti dava anche ragione no e spalla ma se tu la prendi qua questo è braccio puoi dire quello che cazzo vuoi questo è braccio e quello mi ha dato un fastidio del mento sì che non abbiamo non è che abbiamo fatto una grande parte però questo alla juve controllano anche le mutande si controlla all'inter il 21 si hanno contato tramite auricolare però era fuori gioco era fuori gioco il primo gol e inutile che minotti mi dice tanto la partita indirizziata che indirizziata solo 0 a 0 si ha avuto 3 4 palle gol però non hanno segnato potranno segnare in futuro per i dopo potremmo segnare sì ma è stato solo 0 a 0 non sai come va a finire la partita se il genua stand sullo 0 a 0 tiene invece poi non ha tenuto un po è fatto l'inter fa subito 2 a 0 e la sì che era indirizzata la partita però guardate questi due fatti poi il rigore quello che ecco l'ho detto l'ho spiegato bene qua e spalla qua questa è la spalla io questa e spalla questo è braccio e braccio cristo e braccio e braccio l'hanno voluto tenere la partita fino a galla fino al 98 tesi e poi abbiamo rischiato anche il pareggio prima del contropiede di fare il 31 però è diciamo la verità oltre a questo episodio la io ho avuto il palo con ronaldo ma giochiamo non stiamo giocando bene bisogna dirlo su due partite con il con l'empoli e con e con il calia non è che abbiamo fatto grandi frasi grande partita o stiamo veramente io penso che il centrocampo e stanco e stanco perché anche se sta settimana non abbiamo giocato però hanno fatto questi tre giocatori hanno giocato tre partite consecutive perché ci manca il centrocampisti non abbiamo centrocampisti questo è il problema pianic ma tu di e bentacuro hanno fatto tre partite consecutive questi sono spompati e già adesso perché ci mancano che dire ci manca il mercano perché non giocano e non ci abbiamo altri centrocampisti si vede che manca qualcosa della società deve intervenire al centrocampo se il mercano non recupera vabbè fra un paio di settimane torna ma che dirà adesso in gruppo penso che dovrebbe giocare gioca mercoledì e chiedina a me non riposa qualche uno di quei tre perché stanno con la lingua di fuori a me mi sembra stato con lingua di fuori lasciamo stare la partita arriviamo ai cuori dello stadio ancora una volta qualche stronzo non l'ha capita o forse lo fanno a poco fanno a posto mi sono fanno a costa perché vogliono danneggiare la juventus che poi ti danneggi tu stesso cretino ti danneggi tu tu non ci vai a vedere la partita sei proprio cretino cretino facendo così ti chiudono la curva facendo così ti chiudono la curva anche a san siro ci sono stati i cori contro il napoli ma vediamo se a san siro faranno lo stesso lo stesso trattamento come a torino staremo a vedere a torino lo fanno apposto a torino e vogliono che il presidente paga i soldi no vediamo mercoledì contro il manchester vediamo se vediamo un'altra juve perché queste due partite non mi hanno piaciute vinciamo sì ok va bene vinciamo però non abbiamo fatto una bella non abbiamo giocato bene va bene ragazzi per questo video vi saluto non date un like se vi è piaciuto ma ogni tanto adesso rifarò continuerò a fare i video dopo le partite mandate un like se vi è piaciuto alla prossima da Antonio della Svizzera ciao ciao